Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Vi starete chiedendo subito chi sono Ma tranquilli che sono un amico di Spencer Che mi appunto mi ha chiesto Di... di... Dai Abro però Sei una merda Mi ha chiesto appunto di... Di fargli un video Siccome il canale stava diventando Più schifoso di prima Siccome era inattivo Perché lui è andato lì in Giappone In Cina, dove cazzo è andato lui A trombarsi le tipe pelose Questo proprio è un figlio di puttana Ok Quindi noi adesso ce ne andiamo all'aereo Comunque nulla Il mio compito era portare un video E dirvi solamente che il... Baked H. Spencer È andato via per un po' E... Mi ha detto anche di dirvi Che... Comunque quando tornerà Non so che caso sto facendo Comunque Quando tornerà qui tira da Minecraft Quindi bella bellui Che perché Minecraft fa puzza Quindi ha fatto bene Siamo tutti contenti E niente Questa è la giornata Comunque Ma andiamo qua all'aereo A farci questo route Bellissimo Ah Gesù Se fossi capace di saltare da tre blocchi Manco autistici E... Niente Lasciamo stare l'aereo Perché fa schifo Andiamo piuttosto Da un'altra parte Anche perché Non so Non so Che fare Come state Tutto bene Sono belle le vacanze Sì Tutto ok Bene Sono contenta per voi Intanto vi saluta Anche Abra Che... È scappato Appena sentite che dovevo registrare Abra Ciao Come sta? Saluta Spencer È il suo canale Il canale di... Il canale dei... Dei cocoriti Grandissimi cocoriti E... Niente Oh C'è un tizio Ciao Ma era one hit Un po' L Ah ci prendiamo questo E siamo in full iron Comunque prima ho registrato un video Dove Ha fatto più schifo di questo Dove Ero full pelle Al DM Su Lì Tentation Island Musichiamo con la mamma Ho vinto da full pelle Però facendo schifo proprio Tipo questi tizi Full pelle Come loro Andicappati Autistici Non c'ho frecce Pure il team E mi devo fare Ma guarda te Ma guarda te Se mi devo fare il team Di handicappati Ma intanto che loro vanno a fuoco Come Proprio Gli ebrei schifosi Ok Sono morti Viva il full pelle Poverini Aiutateli Allora Tant'abra Gioca Brulala Nuovo Gioco dell'anno Non so se lo conoscete Comunque vi invito a scaricarlo Free to play Ovviamente In caso Scrivetelo in descrizione Che Ci giochiamo insieme I vani I vani Speriamo di arrivare subito al DM Comunque questo video sarà più bello del canale Solo perché ci siamo noi tranquilli Sarà neanche editato perché ho cambiato computer da poco e non c'ho Sony Vegas Quindi sti cazzi E' sempre più bello così Andiamo a fare il root degli autistici qua Lasciamo a spiderman Ok Andiamo allo spawn Non c'è neanche bisogno perché fra 30 secondi c'è il deathmatch quindi Balla raga Spero che questo video vi sia piaciuto Lascia un mi piace E' come il rabbra La colla di ciccio gamer Lascia un mi piace Oddio non me lo ricordo più Vabbè sti cazzi Fatelo per ciccio Come tutti E se non siete ancora iscritti Disiscrivetevi Perché sto canale fa schifo Meglio meglio Stepney comunque Più bravo in pvp Allora Questo attizio è autistico pure lui Questo vuole fare team Madonna mi viene in faccia per fare Mi viene in faccia per fare team Direi di clean up pari qua Ma questo è gheppolato addirittura Io lo faccio per Baked Lo faccio per Baked Spammo un po' la frase Come sei forte con l'arco Mi insegni a giocare E' una combo con l'arco E' un po' tovorato Eh si E' in automatico cazzo Dai Due artistici Minchia volete Non ci credo Ragazzi se fanno team questi Ok non fanno team Che sono più autistici Di Gesù Mettiamo nel tag del video David Secondo me è che è più giusto Il canale Demoist Comunque boh Ah no è vero che David E' ma che registratene Esatto Dai coglione Wow che fenne Fenne se got Dai Due handicappati Oh due handicappati Handicappato uno Handicappato due Dai vieni Vieni a ca Cuglione Non c'è neanche voglia di usare la road Handicappato Dai Dieci Oh musea Sta durando più il deathmatch Di tutto l'SG Intanto posso craftarmi Una spada in ferro Quindi non è che mi interessa molto Intanto ero Altizzo da dietro No In pietra In pietra Ho proprio trovato i sassolini Per terra Ok bella Siamo morti Però comunque L'impegno è quello che conta Ci siamo fatti anche il team Io con la mia skin bellissima Trovata a caso Vi salutiamo Abra Spenser Au E questo è